salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo è un video molto improvvisato e molto veloce solo per mettervi al corrente che oggi mi è arrivato direttamente dalla cina con fedex questo pacco dalla freewell contenente i filtri per lui il dji avata e sicuramente sono quegli accessori di cui si ha tanto bisogno poi il marchio freewell è probabilmente il marchio più utilizzato sui droni e ci danno appunto tanta qualità ma al giusto prezzo i prodotti freewell ragazzi sono incredibili perché per ogni drone fanno veramente qualsiasi tipo di filtro quindi per qualsiasi utilizzo e per qualsiasi tipo di necessità e ragazzi non so cosa mi abbiano mandato adesso andiamo a aprire velocemente il pacco per vedere che tipo di filtri hanno per adesso prodotto per il dji avata vi lascio qua sotto i link per acquistarli su amazon perché comunque i prodotti freewell hanno anche di vantaggio questo che sono disponibili direttamente da freewell su amazon quindi è una cosa da non sottovalutare perché una volta che loro sono disponibili direttamente nello store amazon sono anche in consegna velocissima e questo è sicuramente un vantaggio in più non so se attualmente sono già disponibili vi lascio il link e poi se non sono disponibili e perché non sono ancora stati caricati nello store di amazon comunque voi tenete lì d'occhio dal mio link e se non ci sono attualmente lo saranno in seguito andiamo aprire il pacco protettivo e troviamo subito una scatoletta con il filtro polarizzato pl troviamo un'altra scatoletta col filtro uv e poi troviamo una scatoletta un po più grande con i classici nd abbiamo nd 8 nd 16 nd 32 nd 64 quindi il kit completo quello più utilizzato sicuramente e poi vabbè quelli più adatti ovviamente per un drone di questo tipo perché parliamo di un cinewup quindi non è un drone fotografico dove si potrebbero utilizzare altri tipi ancora di filtri lui rimane un cinewup e sicuramente questi sono i filtri più adatti a questa tipologia di drone andiamo ad aprire la confezione per vedere la qualità costruttiva che hanno questi filtri che è sicuramente ottima per quanto riguarda i filtri della freewell quindi apriamo ed eccoli qua con sopra la loro pellicola protettiva anche per quanto riguarda il vetro trasparente del case trasporta filtri ed ecco qua i filtri nd per il dji avata andiamo a tirarne fuori un e guardare ragazzi guardate che qualità i prodotti freewell sono davvero incredibili perché ci danno davvero un rapporto qualità prezzo pazzesco cioè sono filtri di altissimo livello ma rimangono ad un prezzo sicuramente molto accessibile per la qualità che ci viene fornita questi sono i filtri nd andiamo ad aprire gli altri questo il filtro uv eccolo qua piccolo case questo è un case diverso perché qua abbiamo un unico filtro guardate che bello tac e abbiamo il filtro uv la qualità rimane sempre spettacolare ma un case un pochino diverso perché qua ovviamente i filtri all'interno sono di meno e poi andiamo a guardare quello pl quello polarizzato andiamo aprire anche lui abbiamo la stessa confezione di quello uv ed ecco qua il filtro uv spettacolo spettacolo ragazzi bellissimi e poi all'interno di ogni confezione comunque abbiamo sempre anche il panno in microfibra per pulire i filtri prima di andarli ad installare sui nostri dispositivi quindi ragazzi questo è solo un piccolo video per farvi vedere cosa è già pronto dalla freewell per lui il dji avata quindi presto li vedremo sul canale perché comunque è davvero interessante provare i filtri soprattutto molto molto utili in tantissime situazioni perché queste piccole fotocamere soffrono ovviamente tanto la luce perché sono davvero molto molto piccole e utilizzare filtri di questo tipo ci dà tantissimi vantaggi quindi se questo mio video in cui vi ho portato questo unboxing veloce qua improvvisato in questa location dove stavo facendo volare il dji avata ben piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler spoiler anche delle location tipo questo dove vengo a far volare i miei droni sempre se vi va ragazzi iscrivete al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale infatti anche di loro se ci saranno i coupon sconto li troverete sicuramente nel mio canale telegram offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o novità ciao e al prossimo video A presto Grazie a tutti.